Buon giorno a tutti, stamattina abbiamo deciso di fare la delizia al cioccolato, al cacao, comunque la torta al cioccolato con Dominic, quindi oggi il mio cuoco sarà Dominic, questo è un gioco bellissimo per loro, allora cominciamo da accendere il nostro forno, vieni, vai Dominic, ok, vieni, vieni che lo accendiamo, sì tu però, aspetta no, te lo dico io, no no no, aspetta che ti dice la mamma cosa devi fare, intanto lo apri e tiri fuori la teglia che ci serve, tira fuori anche quella rettangolare che non ci serve, la poi ci senta, giuri, e pre riscaldiamo il forno a 200 gradi quindi mettiamo qua attacca questo in fondo bravissimo lasciamolo scaldarsi lasciamolo tutto il tempo dai andiamo a fare la torta adesso allora adesso dividiamo gli albumi con i tuorni tu vuoi fare già il burro a pezzetti e sto registrando amore lo fai a pezzettini piccoli questo? si sono 150 grammi di burro lo tagli per così e lo fai a pezzettini piccolini dai taglialo a pezzetti piccoli bravo Dominic dai che sei bravissimo eh tira in giù tira in giù bravo con un coltello ovviamente per bambini piccoli e mettiamo qui nel frattempo se ce la fa si che è bravo lui ci accendiamo i bimbi e prendiamo la farfallina se montiamo i nostri uova dai bravo tira tanto bravo tira tanto bravo tira mamma lo aiuta sto facendo un casino col burro ma lascialo bravo taglialo tutto a pezzettini eh quindi mettiamo la nostra farfalla nel bimbi nel frattempo prendiamo un bel bicchiere e dividiamo albumi e tuorli sono sei uova piano amore piano così guarda tu schiacci si rompe visto no non metterlo da nessuna parte lo devi lasciare qui e attento non farlo sciogliere tutto perché sennò poi dopo non ce l'abbiamo più dai fai tutto dai tutto eh poi dopo te lo dico dunque i nostri albumi adesso dobbiamo montarli quindi ce la fai amore eh Giosuè pensa a riprendere non pensare alle cose che sono mamma pregio wow aspetta eh che devo fare una cosa adesso tu vai avanti a rompere il burro dai allora però ho fatto l'amico mi nota gli albumi lo lavano qui e ci mettiamo i nostri tuorli non si sbaglio anche adesso mamma mette la torta dopo dopo tu stai facendo la torta wow wow sei grande oh buccia uova si dice mamma bravo metti a lavare quello che hai usato tranne quella azzura che mi sa no aspetta metti le tue uova il burro taglialo taglialo no taglialo il burro che si oh bucce deve fare zack 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 col burro già già qua no qua più grande ho visto cadere una buccia dai presa mamma vai avanti eh non mollare fai il burro aperto mi sembri quelli che fanno ottimi orziari metti aiuto ecco qua abbiamo diviso tutte le nostre uova adesso pulisco un attimo qua mamma non sei perdi scusate cosa c'è no 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 dopo eh te lo dico io quando devi metterle quelle dai 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 già già allora adesso dobbiamo mettere un pizzico di sale ecco no no quelli dopo no quelli dopo quelli dopo un pizzico con gli alunni per farla montare bene chiudiamo accendiamolo mamma ma taglialo adesso domini che chevolo stemettine adesso ti faccio fare un'altra cosa bravo l'hai tagliato l'hai disintegrato adesso ti do la teglia e tu gli spalmi tutto intorno il burro falla tutta imburrata toh si vai in la ferma la teglia eh devi tenere la forma tutta falla allora noi intanto facciamo andare 6 minuti in velocità 3 e mezzo finché gli albumi sono belli montati dai facciamolo andare 6 minuti a una città 3 e mezzo e facciamo montare il nostro albumi intanto lui imburra bene tutta eh amore tutta ancora ancora passaci la manina fallo diventare tutto burroso anche intorno si si qua c'è un po' di burro usa anche qua eh come si è sfogliato il burro dentro è per questo che lo stai facendo no il nostro albumi intanto montano sono già così montati vediamo ora qui che c'è un pezzo di burro dai no no dai gli do un pezzo di burro che ha fatto il contorno non mi sembra che ce l'accompoli dentro no vai fallo anche intorno vai fatti mettere quello di Eric un attimo grazie qui no qua no basta qua adesso il contorno sul burro è bene è bene è bravo come cuoco Dominic bravo tutta eh perché se no si attacca la torta intorno bene qua qua così dai lui non tu e si asciuga sui pantaloni il burro dai che l'albume si sta montando bene tutto ci ha detto no lì devi mettere quello e poi la farina ci dobbiamo mettere dentro eh qua che c'è un po' di burro così manca qua dopo vai che ci sono altri pezzetti dai fallo bene eh tutto tutto eh qua intorno passa la mano tutto intorno così tutto intorno qua così così passala così che bella è imburrata anche la tua mano ma perché quanto non mi fa dai dai tutto tutto passa la mano tutto spalla dai passa a sudere così appiattisci la mano così e fai così oggi vi do una ricetta e nello stesso momento faccio giocare Dominic Dominic fa un sorriso allora metti un attimo in pausa che aspettiamo che montano gli albume farina allora adesso scendi da quello e lo metti dritto che vai verso il lavandino ok allora bravo adesso ti metto la farina aspetta aspetta cosa devi stare tu la muovi tutta vai muovi tutta la farina nel lavandino vicino al lavandino bravo ai bordi ai bordi adesso adesso nei bordi ok così guarda la metti così vai così giro 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 aspetta che ti do una mano un secondo e poi vai avanti tu giro giro torno fallo bene vicino al lavandino così se cade la farina cade nel lavandino bravo bravissimo è il mio cuoco bravo oggi bravo fa niente fa niente poi pulisco giro giro si 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 bravo tanto dopo va buttata quello in più nel lavandino finito allora guarda adesso vi faccio vedere come si butta quello in più vuoi vedere guarda questo c'è il lavandino tu lo giri dammi la manina clicchia così un attimo ok aspetta adesso lo prendi e fai fai due volte così ecco girano guarda che è venuto benissimo bravissimo dominique adesso appoggialo qui che questa è pronta per l'uso adesso questo ci aspetta per mettere dentro l'impasto della porca lo mettiamo da parte adesso tieni questo che dobbiamo mettere tra un po' i nostri albumi che sono montati e tu mescoli 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 belli vengono montati così dai dai sembra panna ce li mettiti qua ehi vicino la pianta il bonsai dove è un sorriso? qui è pronto adesso li mettiamo dentro aspetta che adesso devi venire qua però vieni giralo bene adesso questo mettetelo girato in modo che non cadi come la prima mettiamo 20 grammi di zucchero qua qua no ok adesso lo facciamo andare 20 secondi alla velocità 3 e mezzo che si miscola bene vieni che lo dobbiamo mettere lì ora vieni me mi voglio metti qua me mi ti voglio qui ti voglio devi mettere lì dentro adesso gli albumi quindi vieni qua mi fai un sorriso dammi no 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 sei pronto? si no oggi è bella calda è già bella calda no pronto stacchiamolo un attimo siamo andati oltre dentro pronti? ok li mettiamo dentro togliamo la nostra faffada sembra panna no faffada togli si che si è praticamente aspetta che lo sbatto un po' si lo metto no mi colla si dopo devi mescolare così tiriamo giù tutto questo? si vai tiralo giù prendi questo tiralo tutto fuori dai e lo metti qua bravo tutto eh non ci sto aiutando Dominic ma è troppo bravo faccia basta aspetta che guarda no ce n'è ancora allora aspetta che ti aiuta la mamma qua eh io meccolo meccolo dopo meccolo meccolo si meccolo si questo cosa? si con quello guarda come è montato bene questo albolo tienilo eh tienimelo fermo bravo così si fa vedi guarda che stai facendo la torta tutto solo sul letto guarda che è bravo bravo tienilo qua tienilo qua tienilo qua no qui qui dammi qua mescoli 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 eh ma mescolò qua che è meglio che ti guardo no petta ti guardano tutti qui eh petta qui che ti guardiamo dai petta ce n'ho ora abbiamo messo da parte i nostri albumi e arriviamo a mettere nel boccale lo zucchero zucchero con la miele io uso questo si zucchero quello mettiamo dentro questo così lo faccio fuori sono 180 grammi eh guarda me bravo tu mescola bene eh tanto noi sono già ben rimontati quindi non dovrebbero smontarsi in che senso se non smontarsi non dovrebbe smontarsi l'uovo è già stato quindi lo zucchero i tuorli e il nostro burro no no prendi il burro la mamma no ti permette è tutto disintegra è una ricetta per bambini tagliate già tagliato bravo l'ho visto l'hai tagliato proprio bene molto non c'è tanto adesso lo metto là sì che ci faccio la torta eh è il nostro burro che erano 150 grammi eh sono già passate 200 ok così così guarda tu lo tieni così tienilo così 6 minuti a 70 gradi velocità 4 quindi 6 minuti velocità 4 andiamo intanto lo sciamo andare cosa fa Dominic? ma che bello questo è il boom l'hai messo tutto unito bravissimo metti pausa che aspettiamo che vi fanno i laguni vieni Dominic vieni dai vieni che mettiamo il cioccolato stai riprendendo? sì sì no questo qui lascialo stare che adesso non ci serve l'ha mescolato ben benino attento a non toccare niente e apro adesso mettiamo dentro 250 grammi di cioccolato chi ce l'ha io ho fatto il cacao col cioccolato quindi userò quello eh dobbiamo metterlo qui dentro e dobbiamo arrivare a 250 grammi guarda qui e mi dici stop eh no no è ancora iniziato aspetta eh vado no no cosa hai schiacciato spara ottimo non sappiamo più il peso fa niente va bene vabbè l'hai sempre superato 250 grammi allora adesso lo lasciamo un attimo che si squagliano un po' squagliano aspetta eh dopo questo ci serve aspetta 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 ci serve dopo adesso io girare io mettiamo qua guarda la mamma 20 minuti dopo lo giri sì 20 secondi aspetta eh velocità andiamo sul 5 che si squagli bene che lo facciamo sciogliere bene guarda eh ok che sei pronto eh bene no Zucco si ma le dita dentro no dai gira gira mi fa buco dammi ecco il buchino andiamo vieni dammi aggiungiamo la farina qua se ne servono 50 grammi veramente poca si sta montando a fuori toccarlo vieni io sali ok mettiamo 50 grammi lo metto io aspetta è un po' alto per te aspetta devo firmarmi sì ok no basta abbiamo messo mi hai detto stop adesso aspetta che facciamo l'altro passaggio abbiamo messo la farina mescoliamo 10 secondi e velocità 5 questo gira la rotellina basta velocità vai 11 5 più su più su più su poco poco va aspetta aspetta che finisce aspetta che finisce ha finito visto gira la rotella di qua basta adesso si apre abracadabra adesso andiamo a mettere tutto insieme però invece di usare il bimbi allora se usate il bimbi mettete 15 secondi velocità 2,5 se non usiamo il bimbi lo mescoliamo a mano così si diverte il mio pupo però fai una bella cosa vieni qua a mescolare no si si qua si sta smontando non fa niente vieni 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 che ti lo metto qui vai vai gira tu si tu giri eh uniamo tutto vai gira 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 che se no vado eh occhio a non ti bruciare adesso eh gira 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 guarda che bello cioccolatoso adesso un uovo ti diventa un cioccolato ti do la mano guarda eh guarda che magia che diventa aspetta che ti do la mano e dopo vai avanti tu eh che ci diamo su vedi bene il cioccolato guarda guarda dai vai avanti a girare bene aspetta c'è no piante perché è alto dai giù alto dai mettiti così più alto attento a non buttarlo giù però eh attento altra altra pulire dopo fai mescolare a lui tienila eh tienila ah devo tenere attenzione a non buttare giù niente un attimo fermati ricorda di averla già fatta questa torta diceva di cuocere a 200 gradi eh per 15 minuti allora non consideriamo neanche proprio il giunto dai patta e andiamo poi per intuito noi la torta la cuociamo perché l'ultima volta è venuta bruciata e se è cruda dentro è cruda all'interno quindi noi valutiamo di farla al normale 160 gradi forno ventilato e andiamo man mano a controllare ok con lo steppino vediamo posso vedere se è venuta bene? no non sta bene no posso controllare? no ma non sta bene no aspetta guardo eh 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 ma non sta bene eh sì dai è venuta bene dai un'ultima mescolata se non è venuta bene non possiamo metterla in forno no ecco qui dentro travasala adesso aspetta che mettiamo via la frusta dove stai andando? lo sei solo tu fuori dimmi tu stop eh dobbiamo arrivare a metà eh mezza torta io ando io aspetta vai guarda la teglia tu tieni vai pop ma io mi sa che ci sta anche tutta ancora ancora dai ci sta tutta meno male attento che se si apre va giù tutta la torta che sono quelle a cerniera che sono quelle a cerniera allora andiamo a mettere in forno ora qua tagliuta la mamma ho messo quindi a 100% io non ho forno ma io fado no col forno ci si brucia quindi questo lo fa la mamma ok guarda che sei diventato tutto fatto di torta adesso andiamo a guardare di volta in volta vediamo quando è cotta io tengo sempre con la magliettoria e ci vediamo quando è pronta io tengo io saluta a tutti gli dici ho fatto la torta ci vediamo quando è pronta ciao 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 allora ci siamo pronti due piazzi che c'è qua? bonbon cade tutto giù come fa la mamma? bonbon cade tutto giù andiamo a fare questa torta vediamo come vediamo questa volta fatta dal mio gruppo domini adesso però bucerò la parte sotto tenera è tenera non so se questa teglia che vale un poco e niente non c'è un problema delle corte ma è un fotomanestro eccola qua a vostro piacimento potete mettere su una sponderata di zucchero o meno ed è pronta per essere divorata allora noi lo mettiamo fatto amore? sì sì guardami fai vedere c'è ancora c'è ancora venga pronti per il taglio sembra venuta bene stavolta un'altra volta a 200 gradi un quarto d'ora era una fulminata stavolta l'ho tenuta un massimo 40 minuti a 160 gradi come ho visto che lo stecchino era asciutto spento e l'ho lasciata in forma poi 10 minuti ancora la forma è spento eccola è venuta perfetta la fortuna del nostro pagano vedete deve venire così dentro perfettissima ci vediamo al prossimo dolce e scusa un attimo ecco la torta che ha fatto Dominique ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.